Anche quest'anno la città dei fiori ha aperto le porte alle giovani promesse della musica italiana Sanremo Giovani infatti è alla sua terza edizione e dopo Giorgia, Irene Grandi, Andrea Bocelli, Idam, Massimo Di Cataldo, Gianluca Grignani, I Neri per caso e tanti altri stanno per sbocciare nuovi volti e nuove voci. Chi saranno i vincitori tra le 28 promesse di quest'anno? Lo sapremo molto molto presto. In bocca al lupo ragazzi e vinca il migliore. Sanremo Giovani, il festival che porta fortuna e tra ospiti e balletti internazionali un nome per tutti, CER! Sanremo Giovani, martedì 7 e mercoledì 8 novembre 20 e 40, RAI 1 Buonasera, tra poco andrà in onda il film Sister Act, una svitata in abito da suora. Il film è in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio. Vi ricordo inoltre i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Buona visione! Era l'estate in cui tutti pensavano che i russi avrebbero invaso Long Island da un momento all'altro e il presidente Kennedy andò a Berlino per intercettare. Lo Sputnik aveva circunnavigato il mondo già dieci volte e il signor Rossi, il nostro vicino, giurò di averlo visto sorvolare il suo cortile. Ma io avevo altre cose per la testa e anche tutti gli altri che abitavano nel mio quartiere. La piccola Alice è soltanto una bambina, ma vorrebbe tanto vivere come Sheryl, la ragazza della casa di fronte, così vicina eppure così lontana. In prima visione TV, calde notti d'estate. Giovedì, ore 20 e 40, Rai 1. E subito dopo il film, il nostro appuntamento con storie vere. Vi aspetto con Donne Albivio Dossier. Monsignore! Sì? Guarda come perciò sui paffetti! Ho capito! Sui vetri! Questo appuntamento è un miracolo! Non è un miracolo! E' polti! Però pulisce che sembra un miracolo! I laboratori Garnier inventano il colore trattamento per capelli più morbidi. Movida, il primo trattamento crema colorante tono su tono al carité. Pratico e rapido, senza ammoniaca. Colori naturali, luminosi, durevoli. Movida trattamento crema colorante copre dolcemente i capelli bianchi. Movida, il colore trattamento per capelli più morbidi. Movida trattamento crema colorante tono su tono. Garantito dai laboratori Garnier Paris. Con Citroën ZX, Berlina e Breck arrivano fino a 2 milioni in meno sul prezzo di listino. E se volete, nessun anticipo, 60 rate. Citroën ZX, Berlina e Breck. La carica dei milioni. Tutto a posto, signora? Sì, Ambrogio. A parte, certo l'angorino. Vado nel vagone ristorante e... Non è il caso, Ambrogio. Più che fame la mia è voglia di qualcosa di buono. Che ne dici di un Ferrero Rocher? Basta chiedere, signora. Il Ferrero Rocher. Grazie, Ambrogio. Il buon gusto non ti abbandona mai. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. E adesso, una bella doccia. Dottore, gli scienziati russi per la doccia. Americani, russi, tutti qui a fare la doccia e... E sanno che la caldaia Riello ha il tasto benessere. Si preme e l'acqua esce alla temperatura ideale, senza sbagli. Tanto benessere. No, gente, non scoti più mano. Finalmente. Ma dottore. Finalmente, non cieli, non scotti più mano. Caldaia Riello. Per la prima volta, nella privatizzazione Eri, il valore delle azioni è protetto dalle oscillazioni della borsa. Va in banca. Informati. E prenota le tue azioni. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo o la nota informativa sintetica. Eri, valore energia. Ah, il papà. Ciao. Come va oggi il raffreddore? E la febbre? Molto meglio, grazie a Vivinci. Si vede. Se penso a ieri, avevo la testa come un pallone, naso chiuso, mi sentivo intuntita, confusa. Vivinci con vitamina C combatte i sintomi dei forti raffreddori e dell'influenza e di norma è ben tollerato. Vivinci e ritorni subito effervescente. Vinci, vinci con Vivinci. È un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti colaterali per i bambini al di sotto di 12 anni. È necessaria la prescrizione medica. Leggere attentamente il foglio giustrativo. È un prodotto Menarini OTC. Scottex Ultra sfida l'Europa a Londra. Scottex Ultra assorbe rapido. E assorbe tanto. Più della carta di Sara. Niente, assorbi di più e più rapidamente dell'assorbi rapido Scottex Ultra. Non dimenticare tancante. La nataμità! Grazie a tutti. Grazie a tutti.